Si riaccende il dibattito a Teramo sulla rivitalizzazione del centro storico che deve passare attraverso la collaborazione tra gli enti territoriali e i commercianti in primis, ma anche la questione sicurezza non è secondaria. Si, in via generale è un dibattito sempre vivo, quello della rivitalizzazione della nostra città è un obiettivo che stiamo portando avanti da anni e che oggi vive in questo nuovo rapporto con il consorzio Shopping in Centro, una collaborazione con tutte le attività commerciali che devono ritrovare questa unità, questa organicità e dall'altro fronte noi istituzioni abbiamo il dovere di sostenere, come stiamo facendo per questa iniziativa così bella che si svolgerà il 6 settembre, è tutta una serie di misure e di attività che devono essere organizzate anche con forme strutturate, penso ad un protocollo d'intesa che ci consenta di definire quelle azioni e quelle misure che ovviamente riguardano le specificità del nostro centro storico, tutti. Questione sicurezza, in pieno centro si è verificato l'ennesimo episodio di violenza. Sì, un altro dei temi, anche su questo purtroppo è un fenomeno che non riguarda solo la nostra città, c'è una gestione sbagliata a livello governativo e nazionale anche delle misure che riguardano l'immigrazione, ma è ovviamente un momento in cui si sta lavorando e sta collaborando per limitare al minimo queste situazioni e soprattutto per gestire tante altre realtà, lo abbiamo visto nel mese di agosto quando siamo intervenuti con una misura e azione specifica su Piazza Garibaldi, è soltanto l'inizio di un percorso che ovviamente farà fare al Comune di Teramo ciò che il Comune di Teramo deve fare e le altre istituzioni ciò che tocca loro.